La teoria è la prassi del cosiddetto centro tonale. L'idea c'è che i suoni non sono uguali, ma che esiste al contrario di quanto in volta in volta, in volta in volta, in mente, un suono fondamentale di quello che erano da tutti gli altri. È il suono del centro tonale, che stabilisce l'ambito armonico in cui pare la sinfonia o il concerto, il filmetto, la sezione, una frase ulteriore di quella sinfonia o di quel colore, si vengono necessarie o necessarie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.